Amici di Player Inside, vi abbiamo parlato dei boss più difficili da battere nei videogiochi. Vi abbiamo parlato per esempio di Motaro di Mortal Kombat, di Gigast di Heartbound, Emerald Weapon, Volontare Sidua di Kingdom Hearts, Alma di Ninja Gaiden, Sigrun di God of War, Orstan e Smog e Der Richter di Final Fantasy X, ma ce ne sono molti altri signori. Io non ho detto niente. Vabbè ma tu devi essere il bello della coppia, non devi per forza dire cose intelligenti. Ciao amici di Player Inside, sono il bello della coppia detto altresì Raiden di Player Inside. Iscrivetevi al canale e benvenuti al Player Insider Kate Barber. Effettivamente lo avevo detto. Hai visto, basta con il bello però. Partiamo dal presupposto che Castlevania Symphony of the Night uscito nel 97 su Playstation 1 è stupendo, ma include anche uno dei boss più difficili forse dell'intera serie, Galamoth. Si tratta di un boss gigantesco con i poteri dell'oscurità e del tuono, che ovviamente infliggono tantissimo danno ed è anche molto resistente agli attacchi di Alucard. Una forza tremenda ma anche plausibile, visto che si tratta di un essere che pianifica da 10.000 anni la conquista del Netherworld. L'unico punto debole è la testa, che ha zero di difesa, ma è anche difficilissima da raggiungere vista l'altezza del boss rispetto ad Alucard. Beh, bella testa, bella testa di... Questo non me l'aspettavo Raiden. Comunque, se io avessi 10.000 anni per pianificare un attacco, io userei 9.998-99 anni per non fare un bel niente e poi 1-2 anni per effettivamente allenarmi. È come quando studiavamo, che è l'ultimo giorno. Non si fa, ragazzi, no? Non si fa, oppure fatelo se siete tremendamente intelligenti, il che non penso sia il caso di tanti di voi, di tanti di voi, però. Un boss può essere tale anche se non deve essere letteralmente ucciso, ma semplicemente battuto, come nel caso di un gioco di corse. Parliamo di Diddy Kong Racing per Nintendo 64 e del gigantesco maiale Weeds Pig, contro cui bisogna gareggiare. Weeds Pig però è talmente grosso che non si avvale di un kart, ma si limita a correre a piedi ed è velocissimo. Batterlo richiede una grande conoscenza del tracciato e prendere perfettamente tutti i boost di velocità. Questo perché di base Weeds Pig supera la velocità massima raggiungibile dal kart del giocatore, quindi non fare errori è essenziale per battere il maialazzo in questione. Però non trovo giusto dover gareggiare contro uno a piedi, per quanto può essere veloce, deve essere kart contro kart, quindi sta cosa non mi sconfino. Ragazzi facciamo una petizione, Nintendo è rare, non è giusto che voi facciamo... ma chi se ne è? Abbiamo parlato di Emerald Weapon e Dan Richter, ma c'è un altro boss che fa penare i giocatori di Final Fantasy, sicuramente più di tutti gli altri. Absolute Virtue di Final Fantasy XI. Introdotto con l'espansione Chains of Promatia, questo boss è noto perché inizialmente nessuno riusciva a batterlo nella maniera classica, ma solo sfruttando dei glitch che poi sono stati patchati e dei trucchetti grazie alla combinazione di certe abilità con specifiche armi che poi sono state appositamente nerfate nel 2008. Insomma, questo boss doveva essere assurdamente difficile nelle intenzioni degli sviluppatori. Addirittura il boss impegnava le gilde in battaglie di decine e decine di ore rimanendo imbattuto. Solo anni dopo, dopo pesanti critiche, Square Enix si è deciso a pacciare il boss, riducendo la sua salute di quasi la metà, rendendo così Absolute Virtue quantomeno battibile, ma sempre con una difficoltà incredibilmente alta. Ma perché farlo così difficile? Ma allora, la risposta è, anzi la controdomanda è, perché no? La sfida più ardua di Destiny, sicuramente rappresentata da Skolas, boss finale della seconda espansione, la casata dei lupi. Le sfide settimanali del gioco prevedevano dei modificatori alle armi, quindi in 7 settimane era decisamente arduo riuscire a contrastare le armi di Skolas e dei suoi minions, richiedendo ai giocatori anche ore per sconfiggerlo. Infine, gli sviluppatori hanno deciso di rimuovere i modificatori che lo rendevano tanto arduo da battere, ovviamente scatenando anche le ire di chi aveva impiegato tante ore per poter concludere l'espansione. Insomma, quando si parla di giochi online, poi intervengono gli sviluppatori che vanno a pacciare i giochi, ma nei titoli di una volta tutta sta cosa era impensabile. Giustamente, quelli che già l'avevano battuto e ci sono fatto un culo così, e ora quelli che arrivano adesso, un po' come è stato quando noi ci siamo laureati, no? Lo vogliamo raccontare a Midna? Ma se vuoi dire di no. Comunque, noi eravamo nel corso quello vecchio ordinamento, avevamo 18.000 materie. Poi sono arrivati gli sbarbatelli con 19 materie e si sono presi la nostra stessa laurea. Bravi! Non vale, non è giusto! Sicuramente Mike Tyson è il boss più difficile di Punch Out per Ness. Già le dimensioni dell'avversario rispetto al Little Mac fanno capire che il combattimento non può essere semplice, oltre al fatto che le proporzioni se ne vanno a quel paese. Cioè, è Mike Tyson ad essere alto 3 metri o è il Little Mac 1,40? Al di là di queste congetture, per battere Tyson è necessario un tempismo nella schivata praticamente perfetto, ma senza strafare, altrimenti troppe schivate potrebbero lasciare scoperto il fianco. Insomma, un boss solo per i giocatori più abili. E posso dire di averlo battuto. Ah, Rai, bravo, lo sapevo. Posso dire di averlo battuto. Tra l'altro, questo per informazione, Mike Tyson è circa 1,80 m. Eh, però qui sembra... Quindi Little Mac, è perché si chiama Little, perché è 1,22 m, pensate. Comunque è forte. Zelda 2 di Adventure of Link per Ness non sarà passato come uno dei migliori Zelda, anzi, però sicuramente include uno dei personaggi più iconici e impietanti della serie, Dark Link. Si tratta del boss finale del gioco e il combattimento è veramente arduo, visto che Dark Link ha le stesse mosse e si muove alla stessa velocità del protagonista, riuscendo a parare gli attacchi rapidamente. Esiste un modo per sconfiggerlo molto facilmente, ma si tratta della classica lamerata, ovvero chinandosi in un angolo e attaccando continuamente. Però se si sceglie di combattere con onore, quindi nel modo previsto dal gioco, ecco che l'abilità del giocatore è seriamente messa alla prova. Dark Link è anche uno dei nemici più difficili da abbattere in Ocarina of Time, in cui anzi era solo un mini-boss. Anche in questo caso la difficoltà risiede nella velocità con cui l'avversario anticipa e para la maggior parte delle mosse del giocatore, che quindi dovrà affinare la propria strategia e diventare imprevedibile. Sì, è un po' come quando uno cerca di colpirsi allo specchio, no? Non è proprio la stessa cosa. Sì, colpisci, poi ti fai male, ti fratturi la mano oppure te la tagli, mille pezzi ti tagli la mano. Lo faccio spesso, ragazzi, lo faccio spesso perché mi odio. No, non è vero, anzi mi stimo molto, quindi... Vabbè, evitiamo di dire che cosa faccio io allo specchio con me stesso, con me stesso. Comunque a questo punto dovresti dovuto ridere, oppure dire... No, è vero, ma che dici, ragazzi? Io ormai mi dissocio quasi sempre, quindi... Dalla maggior parte delle fesserie che dico, eh? Non appena si incontra in combattimento Mr. Bison di Street Fighter 2, si viene subito travolti da un'aggressività decisamente sopra la media rispetto agli sconti precedenti nel gioco. Batterlo richiede una grande conoscenza del proprio personaggio ed esperienze in generale con Street Fighter. Mr. Bison unisce due caratteristiche che di solito si escludono a vicenda, ovvero estrema potenza e alta velocità, riuscendo a decimare la barra della salute del giocatore con pochissime mosse, rendendo quindi preferibile utilizzare personaggi con attacchi dalla distanza. Bene, signori, questi erano altri boss tra i più difficili dei videogiochi, ma ce ne sono sicuramente altri. Ce ne sono tantissimi, ragazzi, potremmo fare 100 miliardi di top dedicati... 100 miliardi è forse esagero. 100 miliardi. Qualche altra top dedicata ai boss più difficili. Tipo un'altra. Tipo un'altra, quindi lasciate tanti like e anche suggerite... Lasciate 100 miliardi di like. Suggeriteceli, senza spoilerare i giochi più recenti. Magari il boss finale dell'ultimo gioco uscito ieri, no. A 101 miliardi di like, ragazzi, Raiden nudo su questo canale. Non ci arriviamo mai. Non è male. Se dovessimo arrivare, 101 miliardi di like. Ciao ragazzi, alla prossima. Alla prossima, grazie. Ciao.